Domenica 13 giugno 2021, spazio sociale Visrabia, via Galini 40, Arudiana, partigiani contro. Una giornata oltre e contro la narrazione istituzionale sulla resistenza, per disseppellirne le storie reali, tirandole fuori da quel mausoleo di retorica e infamia che sempre ci viene propinato. Dalle ore 17 presentazione del libro di Cannibali e Re, partigiani contro. La resistenza come esperienza radicale e in profonda discontinuità con il resto della storia nazionale. Dalle ore 19 concerti con... Petrolio, caos elettronico und rumorismi industriali. Gli occhiali, hard ambient analogico. Strangolatori del Gange Jungle Boogie, Rock, Rudimentary Pizza Power a profusione, col forno a legna del Visrabia, bibite fresche, elisira ad alta tensione e gradazione, spazio sociale Visrabia, via Galini 40, Avigliana, domenica 13 giugno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada